Si sta cercando di capire la dinamica dell'incidente avvenuto domenica verso le 16 in Bacino San Marco quando un barchino con due persone a bordo si è rovesciato. Sul posto le volanti della polizia, mentre i due venivano assistiti dal personale di un vaporetto a CTV che stava navigando nelle vicinanze, poi il trasferimento all'ospedale di Venezia. Le testimonianze riferiscono anche di un taxi acqueo visto passare carico di clienti con le persone che assistevano ai soccorsi del barchino e gli urlavano di fermarsi, di aiutare, ma il tassista ha tirato dritto. Le immagini hanno suscitato l'indignazione dei presenti. I vigili del fuoco hanno poi recuperato il natante rovesciato, un motore di 40 cavalli. A causare il rovesciamento potrebbe essere stata un'onda improvvisa, magari generata da un altro natante, ma tutto in fase di ricostruzione.